Ciao, sono Chiara Talin del blog Copingoro Online e sono qua per farti gli auguri della festa della donna. Come sai, tra qualche giorno è appunto la festa della donna, che tu possa passarlo nei migliori dei modi, a divertirti con le tue amiche, mangiare una bella pizza, andare a ballare, quello che vuoi. L'importante è che non ti ubriachi troppo. Come sai, se mi conosci, sono una copywriter dove scrivo appunto le lettere di vendita persuasive. Il mio blog è appunto copigoro online.com, dove scrivo anche gli articoli inerenti al copy. Mi piacerebbe che oltre a leggere i miei articoli, commenti anche quello che scrivo, così almeno puoi darmi anche un tuo parere, un consiglio e altre cose. Voglio farti gli auguri appunto ancora della festa della donna e a presto, al prossimo video. Ciao! Ciao, ciao!